Vediamo adesso come inserire i widget VOKI nel notebook, cioè nel software della nostra lavagna interattiva Smart. Andiamo nel sito di Smart, Smart Exchange, dove troviamo tantissime risorse, è necessaria l'iscrizione, e digitiamo nella casella di ricerca VOKI, cerca. Ecco qui il widget, qui abbiamo l'anteprima, molto interessante perché è un filmato che spiega poi come utilizzare il widget. È una cosa semplice, ma questo filmato va visto con una certa attenzione. Scarichiamo il file, mi viene richiesto indirizzo e password, comunque è una cosa molto semplice. Una volta scaricato nel nostro computer il file, torniamo in notebook, andiamo in risorse, contenuti personali, Aggiungiamo ai contenuti personali e andiamo a cercarci il file scaricato dalla rete. Ecco qui, VOKI avatar, apri, ecco qui abbiamo il nostro widget. Lo prendiamo, lo trasciniamo, lo inseriamo nella pagina di notebook e per vedere come puoi inserire il nostro personaggio parlante, come vi ho fatto vedere prima, dovete vedere il filmato nell'anteprima del sito Smart Exchange. La cosa comunque è molto semplice e non crea nessun tipo di problema. Grazie.